le batterie ioni di litio utilizzate nel settore automotive sono prodotti modulari quindi si passa dal livello pacco batteria che si trova all'interno del veicolo per arrivare a livello modulo e poi a livello cella c'è una variabilità elevata in termini geometria di queste celle batterie ioni di litio tipicamente le geometrie sono tre prismatiche cilindriche e a pacchetto pouch e c'è una variabilità anche a livello di elettrochimica che quindi rende variabili materiali utilizzati all'interno delle singole celle questo rende complesso il processo di riciclo in termini di automazione e la variabilità in termini di materiali rende necessaria flessibilità nei processi di riciclo e impatta sul ritorno economico il riciclo in europa delle batterie ioni di litio avviene attraverso impianti con capacità attuali di 80.000 tonnellate annue e quindi in ottica di crescita del mercato del veicolo elettrico bisognerà espandere questa capacità di trattamento attraverso investimenti come si riciclano le batterie ci sono principalmente due catene di processi che vengono utilizzate la prima consiste nei processi pirometallurgici processi termochimici che inizialmente erano utilizzati per diverse tipologie di prodotti e sono stati convertiti per trattare anche batterie ioni di litio la seconda catena di processi prevede un pretrattamento tipicamente meccanico e poi un end refining process che è tipicamente idrometallurgico il pretrattamento meccanico avviene attraverso il disassemblaggio del pacco in moduli e poi il trattamento di frantumazione del modulo per ridurre la dimensione delle varie frazioni e la preconcentrazione delle frazioni possibili omogenee attraverso diversi processi di separazione meccanica cosa viene fornito ai processi idrometallurgici a valle quello che si chiama black mass che è la frazione granulare con più alta concentrazione di materiali di valore all'interno del materiale catodico i processi idrometallurgici poi trattano attraverso acidi organici o inorganici questa black mass per ottenere frazioni riutilizzabili in diversi modi la sfida principale è mantenere i materiali nel loop all'interno del contesto europeo e quindi fornire materiali di qualità si parla di battery grade sufficiente per produrre nuove batterie quello che stiamo facendo in sirky v che è il laboratorio interdipartimentale che si trova al dipartimento di meccanica che coinvolge sette dipartimenti del politecnico di milano è proprio andare a innovare i processi di pretrattamento per arrivare a frazioni preconcentrate per aumentare l'economicità da un lato ma anche la qualità del materiale ottenibile attraverso i processi idrometallurgici e quindi rendere queste frazioni riutilizzabili all'interno della produzione di batterie in linea con la normativa europea in via di definizione che prevede dei tassi minimi di utilizzo di questi materiali all'interno della produzione di nuove batterie e quindi supportando lo sviluppo delle 25 nuove gigafactory attese in europa entro il 2025 dell'interno civile all'interno civile all'interno di